Dopo il doveroso stop per il doloroso luto che l'ha colpita, per Maria De Filippi è arrivato il momento di portare a termine i suoi impegni lavorativi. Fra qualche ora si registrerà infatti l'ultima puntata di Amici che vedremo in onda domenica 12 marzo. Si tratta per la conduttrice della prima apparizione in video dopo la morte di Maurizio. La puntata che invece andrà in onda domenica 5 marzo è stata infatti registrata prima della scomparsa del giornalista. Stando a quanto trapelato dalla pagina Twitter di Amici News, la produzione del talent show ha chiesto espressamente al pubblico presente in studio di non esultare né tanto meno urlare all'ingresso di Maria De Filippi ma di rivolgere solo un saluto formale. Pochi minuti fa però si sono concluse le registrazioni di Amici e stando a quanto riportato dal canale Twitter non c'è stato nessun applauso formale. Ecco l'annuncio. Alla fine l'applauso formale senza urli è stato abolito. È stato chiesto di mostrare supporto a Maria quindi tutto uguale come sempre all'entrata di Maria.